Andrea Lanfri, Gabriele Zanon. Allora innanzitutto parto un attimo da Gabriele, il motivo per il quale voi come all'Ambicco Academy avete deciso di puntare forte su un atleta come lui. Allora intanto Andrea ha dei valori umani che sono veramente bellissimi, nel senso che è un uomo determinato, un uomo che ha affrontato la trasformazione e il cambiamento con grande serenità, determinazione, metodo. Noi facciamo alta formazione manageriale, quindi facciamo dell'innovazione, della trasformazione del metodo, uno dei nostri asset durante i nostri corsi. Andrea mi ha colpito perché mi ha detto che ho un sogno, voglio andare sul tetto più alto del mondo che l'Everest, noi facciamo alta formazione, quindi ho detto noi ti daremo un contributo importante per quello che posso fare, non posso accompagnarlo per problemi di età e di gambe, ma voglio dire gli posso invece aiutare in maniera economica a sostenere queste imprese. Andrea perché invece hai scelto, non è un matrimonio, perché hai scelto di rappresentare l'Ambicco Academy, di portare la bandiera sul tetto del mondo e comunque di far di sostenere da una realtà importante come loro? I grandi supporti per queste grandi imprese sono alla base di tutto, io ci metterò tutte le energie possibili per realizzare il mio sogno e concludere questa esperienza e arrivare su veramente sarà un'emozione unica. Quindi ringrazio veramente di questo supporto e che dire, non vedo l'ora di partire. Non so ancora che la bandiera però è di ghisa. Sarà un problemino forse, vero? Sei ancora in tempo per cambiare idea. Hai uno sherpa magari dedicato a portarla. Solo per una bandiera. Bravo, uno sherpa bandiera. In bocca al lupo e mi raccomando, metticela tutta. Quello io non ho dubbi, non molerò mai, non molerò facilmente. Conoscendomi spero e credo di riuscire ad arrivare su. Grande Andrea.